Domani avrà luogo una nuova tappa di questo travagliato avvio dell'amministrazione già russo. Sarà di scena il secondo round per l'elezione del Presidente del Consiglio, tappa fondamentale prima di poter far partire i lavori. I punti in discussione saranno gli stessi della prima seduta, che ricordiamo fu sciolta in quanto al momento dello scrutinio delle votazioni del Presidente del Civico Consesso venne fuori che tre franchi tiratori avevano fatto mancare i voti necessari alla sua elezione. La conseguenza politica fu che il Sindaco, il giorno seguente, presumendo di riconoscere gli autori del tiro basso, ritirò la delega all'assessore all'ambiente, con la logica conseguenza di estromettere i verdi dalla maggioranza di governo cittadino. La conseguenza pratica è che domani si dovrà nuovamente votare, ma questa volta per eleggere il Presidente basterà la maggioranza assoluta, e cioè 13 voti. A votare a favore dell'elezione di Di Falco saranno l'Udc, suo partito di rappresentanza con quattro consiglieri, il PDL con sette consiglieri ed il consigliere di Campania e idea mediterranea, a cui si aggiungerebbe il voto del Sindaco per arrivare a 13, quanto basta per raggiungere il tanto sospirato quorum. A questi 13 voti, e per evitare di avere una maggioranza risicata, si potrebbero aggiungere i due voti di Noi Sud, i quali hanno dichiarato voto sarà subordinato a seconda di come evolverà il dibattito nel corso della seduta. La seduta dovrebbe poi proseguire con la nomina dei componenti di alcune commissioni, nonché con una mozione di indirizzo sulla destinazione dell'area dell'ex cementificio, dove si vocifera possa essere realizzato un campo ROM, e proprio per evitare questa possibilità verrà proposta una delibera per uscire dal Consorzio Sole.